Grazie a tutti Piglia, piglia, porca puttola Ma è questo? Non è che esce qua, c'è una figura di me Oh, figlia, possa No, non si Si levi la testa Andate, pianto? Si ma se levi la testa si Se mi mena gli dico ciao He, me, momma Mi sa che... Lo chiamiamo? Io non vedo più, faccio un riflesso Ma non gira, Andrei, vai lì, non la faccio una pietrolina, che ti devi dire? bello, bello bello amore, bello da qua si deve fare una manca si ripresa sto facendo, ci mancano così di male zoom tutto, andrei a fare le cose mostruose non c'è un zoom, c'è un riflesso comunque si vede si vede la testa tua riflessa chi è? sai questo è un mega orecchio ma questo mi sa che è è un furiato, è un doppio più alto è alto, poi c'è questo bianco e gira di porco due ecco, bello bello gente andrea vettiti di qua no no andrea non ci c'è un cazzo quando è la cassetta andrea? da otto ore che cosa dite che andava a guardare? eccolo andrea, vieni qua vieni qua, vieni qua eccolo, eccolo andrea vieni qua andrea questo è illegalissimo ma che? non puoi farlo assolutamente andrea dai che ora c'è davanti adesso c'è la scritta come cammina? ma ti basti sottifando quello? non mi stai andando avanti stai guardando tutto però adesso mi sono riso 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 bello stai organizzatissimo guarda stai organizzatissimo stai andando stai andando non ti fai no 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 non ti fai così stai facendo bagnatutto stai a coprire loro come no 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 ti fai così mi sono riso come no no ti picchio porca vieni di qua vieni di qua c'è davanti vieni di qua vieni di qua andrea Però lei è questo che lo diceva la notte No, no È Francesco Alza, alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza Alza Alza, alza Alza, alza Alza, alza Lorenzo 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 Andrei, non mi dì che non hai ripreso quello di prima guarda come parlo ce l'ho davanti facci una rasata sto coprendo sta legge i giornali ma ti non ti conto finesto gli ho fatto così mi sei messo a ridere ora la racconta qua qui sto grande vendo madonna di chi mi è oh fiorello facci una rasata niente non ci sto come? non ci sto senti le parole che dite che cazzo vabbè 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 mi sta bagnando come un bacco fiorello vabbè facci uno sguardo almeno questo stiamo a bagnare come fratici per niente proprio zitta questa dai qui sta andrei ce la provo non ci provo un cazzo e com'è? ma che cosa mi sta a fare? va ma adesso non per me ma adesso non per me ma mi mettete più qua davanti roma guarda quello che culo guarda dove cazzo sta guarda come sta guarda come sta questo vuole il divano è un levati ti cazzo adesso lascia vedere prendi qualcosa no hai visto dove la faccia? comunque c'è un segno d'apertura si chi è? da rambo a rambo a rambo a rambo mi sa che Gioratti sta a parlare di noi perchè quello sta a parlare di Gioratti poi si non c'era da Barcelona ma dove sta Gioratti? si vede vanno avanti questo si smonta vabbè non entrerà imbecile guarda che c'era tu quello là no ora Federini fate incazzare la teglia di ferma chiudi? non sta così in estremi se sono qui apriamo e registra tutto con i calci in culo con i calci in culo ti prendiamo insiste te le cambiano da sola vai e dove risegnano tutto quello di dire scusalo? ma c'è coccine cosa ha fatto cosa ha fatto? cosa sta? chi è? ma è un battagliero? chi si chiama Max o Mauro? ma chi è quello? quello è Max o Mauro? levatevi se no vieni qua vieni qua che qua Andre che qua Andre? una piccola copertura pure qua quello è Max dove stanno? andre ma stai qui ma tu me lo fai apposta allora calcio di Dio ma i cagliati stanno all'edito andre ma non si cazzica ma si cazzica guarda i capito che cazzotissimo e non la beccata e zitti però dai ti copri a me chi sto a coprire Andre mi è arrivata una cuccia la seconda è una casa l'imbecillo di Stefani da dove è venuto questo? guarda gli autografi vedete lì entrati questo è perché riconosci ma è un po' mi chiedo mi chiedo non mi chiedo non se ne parla mi chiedo 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 si chiamolo su è sicuro che è Max? si questo è quello che è un po' più famoso ma anche se vedete si sa che una cazza si riferite la faccia di Alessandro riflessa con la testa di quello ma perché tutti i girati? ci voglio provare? ma scusa quello che ci sta a guardare chi cazzo è? ma ci hanno andato come dicevo quello che sta a mangiare i pignotti sta allarendo che è qui che c'è da guardare quello? molti meno guarda i pignotti porco che c**o guarda l'addio va bene c'è 4 ciuffette che sta a guardare non sta a guardare? si parco che c**o vai girati porca madonna piccolo resta un po' cazzo mazza ti sento perché guarda la cadena guarda la cadena là dietro guarda la tasca sto riprendendo da vicinissimo dove va di me? guarda Andradi Fabio Andradi eccolo ora c'è la davanti vai rimu vai rimu vai rimu che c**o di roba 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 sto adoro ripigliato guarda i ciuffetti la davanti guarda i ciuffetti la davanti guarda tutto ci stava ricordo guarda giù in fondo a tutte le foto che stanno a fa eh lo so i flash paurosi si veda no ebbene andate là sotto vuoi o per frangio toglieteli dai asciutto alle 9.30 ma io o per fare o per fare ripetuda li sto contro E bla 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 che c**o vuoi ti hai fatto cambio posto per colpa nostra ma che scusate perchè non si gira un'altra volta? ma scusa andate la sotto, dopo l'anno potete rivedere ma io gli ho fatto cosi no? io non mi sto a bagnare grazie al cazzo io ho una spalla sciuta e una spalla a bagnare ecco però noi qua ci stiamo a bagnare con i forci tu che c'è la parte a spritz? guarda le stavate girate stavate girate mi sa che si vergogna che ti so a me sta a bagnare mi sto guardando il lato oh basta sono io sono andrei muovendo che fate quello dei terroristi? andrei mi sa che è simbatico vabbè però stai fallocitare andrei vieni più qua ma che faccio che mi sposta uno che si sposti tu eh che cosa sta a parlare? stai fai cazzo tu guarda quel bambazzo bannaggia la madonna chi è? si vede la testa tu alla rifless chi è la dietro a noi? andrei vieni più qua lo becchi eh io lo vedo la faccia eppure io lo vedo sai devi fare il frangente devi spostarlo che sta l'effetto eccoci preciso ma giù in fondo non c'è più nessuno si vede tutto e quando andremo si gira? ti senti pronto eh? sto pronto sta registrando faccia mi sta venendo bagnato tutto no vabbè copriati i piedi di camera si sta bagnando eh eh oh calma dimma guarda il cameriere sta a ridere io lo ammazzo quello vi è corcontino hai visto il dito mio? sta dicendo perchè si è girato di colpo col giallo lo vede il giallo Andrella che è? no ti lasso già no facciamo la tua pelle da di fuori vede tutto da qua e con tre? non peccato non peccato io li ho fatto vedere l'autogo mi ti ha detto? niente io li ho fatto vedere qua ingazzo che cazzo gli voleva dire dai po' scodinci Andrella che dada zitta e fangella Andrea va a cancella le vestibbe come le cancella levo che no lo so ci si è messa e sei girato un'altra volta e si è messa a ridere parla piano che la rindo ci senta a porcazia ecco dai dai stupigliamo? come ho messo quello la davanti qua Ma che cazzo è? E' lei? Cazzarci loro Vabbè adesso quella è la superiorità Non c'è io non vedo più niente che è Stanno entrando quei due pazzoi Chi? L'ammazzata? Ci fate caccia a tutti Ecco Andrei vai, finilo ora Chi è? Fiorello o no? Porca mi sembrava Deus Dai Andrei rubinchi vai, che cazzo è? Quello lì Non lo so però Vale noi entriamo Fede fatteli quando te ne pare Tutto il blocchetto Oh se vende li andiamo pure noi No io no Oh dai Fede roba che piccaccia dai Zazzato eh, sta guardandolo E' lei vai i pezzini Oh quando mi fanno incazzare quelli che si piazzano? Ma non neve, mi sa che lo fa apposta però Eh no questo può essere quello per protezione Non mi fa fa la foto ma i fanno Che culo Guardate, mica ne ha fatta una una fatta E quanto ne doveva fare? Due, una te sce male, fanne due Una te sce male Una roba che te sce male la foto e Mario che te mazzi Ma poi ma è entrato tutto, perché è entrato? Si sta bagnando tutto il blocchetto Mettila sotto qua, dammola qui Mentre quello fino a meno di un anno fa non era Anche una piccata Guarda Andrea, ora ce l'hai be' No, non ce l'avevo be' pure prima no Gli hai ripiato davanti? Ah mamma, non ce l'avevo be' Guarda ma che roba mi sta a mangiare Cazzi, come no? Guarda vieni qua Guarda quando stava in sede, riprende mano Angi, per vedere la pinna e cose Lo sai, ci sono fatto per il blocchetto Mi sei messa a dire Come per dire che me ne frega a me Stava a pensare a te Guarda che risato Andrea Guarda che risato La onda che deve andare a dire schifo Che cazzo Questa stasera devi cantare quante persone c'hanno Come cazzo sanno, solo due Ti immagini a cercare qua di fuori? Non è brutto Guarda il bambozzo Si ma ragazzi non è brutto però Ma me frega un cazzo Io non voglio dire che è bello, può fare schifo però Poi c'è paremmi che cominci a finire la pita Questa c'è una cosa di meno di un'ora C'è una cosa di più Non mi sei ripiato Dai Andrea Guarda la foto, guarda che culo Zitto Guarda quell'imbecile di Stefanie Stanno non ripiare Caccia sdomma Non ripiare Stefanie No Quanto di gruppo di quattro imbecili Federì, levati da lì Federì, sta la testa tua rifletterò sulla testa di quello Ma Federì, se ti sposti angolato fai sembra che stai lì Ok, gli ha detto Le caculi Caculi Oh, conosci i pignotti dai C'è una tendo qui questa meravigliare Sigarette? Ha preso le sigarette? Andrei tu segui, io vado avanti E sto ripigliando Dov'è? Seguilo beh Oh, fatelo ridere Ale, fatelo ridere Sì, fatelo ridere Ah, le fatelo ridere Zitto, non stella No, no, c'è l'uomo donni E tu, esci E lì Ma, mi sta a riprendere Ma, mi sta a riprendere Ci ho mai mai Ci ho mai mai Ci ho mai Guarda sti cazze di lì Non stai Dov'è? 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 Guarda qua Stai ingaspecchendo tutti i coccini Io No, sono fatto un grande gioco No, no, no No, no No, no Ma dove cavolo sta? Ma dove cavolo sta? Ma dove va? Ma dove va? Dov'è? 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 Forse Verda Anche c'è la dentro Torna Torna Anche la? Se l'abbiamo i barattori Torna Ma c'è per questo Su Yourself Ma c'è questa che cappella Ma neanche la di Fiorello Ma non c'è per quicotliche Ma non c'è o mino Mi piace Sì, è bello. Laccine uno. E dai, io solo, dai, fa il bravo. Grazie, quando sei buono. Mi si sta bagnando. Mi si sta bagnando, mi si sta bagnando, mi si sta bagnando. Entri, vuoi entrare? Mi presto il cappello? Ale, fate una cosa sul cappello. E non ci vede? Io sono un roccio nero, si vede. Dove cazzo lo mi sta? Non lo faccio la qua. Ale, Ale, levatevi da lì. Ale! Levatevi. Forco! Salto là davanti, Romano. Fuggire, vuoi dici metti? Levatevi, levatevi! Levatevi! Fede, levatevi! Levatevi! No, levatevi. Romano, ammazzo! No, levatevi! No, levatevi! No, levatevi! Vieni di qua! Vieni di qua! No, levatevi! Un roccio, eh! Io non le devo! Giovanotti! Ma quello tra poco mi pigliava il matto! Da un minuto! Sto a ripigliare la manna e il rovetto! Ma entra dentro, non arriviamo! Vabbè! Sì, questo è un Giovanotti! Io lo spiezzo! Che cazzo fa? Perché ti ha detto? Andra, entra, dai! Ti stanno delle voci! Ti stanno delle voci, dai! Dobbiamo chiedere! Entra! Dammi il marco! Uscita! Di 60 concetti! Così mandato! Per vendere il marco! Non l'ho fatta! Non l'ho fatta! Non l'ho fatta! Quante dei negozi sono? Non l'ho fatta! 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 Ragazzi! Sono timorate! Ciao! Ciao! Vabbè, vabbè! Giovanotti! Fiorendo! Amadeus! Amadeus e... Tu erano 8-3! Ecco... Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè! Vabbè, vabbè! Adesso ci rimasti il blocchetto mio! C'ho due! Amadeus non mi ha fatto il tempo a fare! Volevo scrivere... Ciao Amadeus! Che mi faceva a scrivere? Guarda c'è il mazzo! Guarda quello! Ma quello c'è un culo della Madonna! La testa di piede! Non mi sono parlato! Madonna! Ci vanno un ticco, tutti insieme! Anche l'ha fatto così! Sta su sopra! Ce le deve tutte e due! Ma tu no! Non me ne frega niente! Andre dai che lo becchi, Amadeus! Adesso sta a riuscire! Guarda, guarda che faccia! Che naso! Sta combinando! Amadeus che fa? Si ha buttato questa terra! Adesso non mi fai fare il padre! Chi ti hai detto? Chi ti ha detto? Che ti ha detto? Mi hai detto... Ma ti ho detto che mi hai detto... E la fotografa è la traccia! Ma è così? Ma che ti ho detto? No! 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 Dopo quale? Nesta notte, stasera. Amadeus, amadeus sale. Ci sono notti. Primo, secondo. Secondo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ma tutti li fanno. Quarto, quarto, quinto. Al quinto, al quinto, al quinto. Quinto all'ultimo. L'odicesimo piano. All'ultimo, quello. Non si fonde, non si fonde. L'autografo. Bene, no? Amadeus, amadeus sale. Andrei, giovanotti, guarda che domenica. Sto ripigliando, ma vi state zitta. Quando ce l'hai qui, c'è un max? Sì, ma è tutto scrastato, sì. Chi è andato? Chi è andato? Occi, no, adesso stai. Quando stiamo giocando. Poi, dove me li metto? No, 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 no. E' amadeus. Buo, adesso ti ricorda staremo lì qualcuno, cioè? Sì, sì, sì. Meno per poco. Anche perché la materia prima non è... Io voglio amadeus o poi... Ma vedi? E' un giovanotto. Sai che cazzo è un... Ma vedi? Buon anno l'ho fatto fare io. Ah, sta riscendo io? Sta riscendo. Ah, muori salita, ma che cazzo fa? Quarto, quinto. Fa quarto, quinto. Se Fiorello mi faccio lo scambio di cappello. Fiorello, facciamoci lo scambio di cappello. E' questa cosa stiamo giocando, quello che dici ti fanno scambio di cappello. Sai a chi che fa l'affare? Oh, sta provando di là. Vabbè, hociò là. Vorrei pigli accogliere più, non so stendere. E' questa... Guarda qua. Perché non gli accogliere? Eh, sta guarda qua. No, dai, la te lo... Dammi uno, non so se c'è. Perché è bellino. Penso che se me non esce, che stava riflettendo. Dov'è Rì? ma che fai con questa borsa? io me lo portalo a borsa metti, metti il fuoco dai, mettilo come i cazzolini qua, va bene, così qua, va bene, così qua, va bene, va bene io lo dico qualcosa di radio rigei non lo dico a coda io dicevo comunque radio rigei in mito vai andrei con lo vecchi sto peccacino 4 4 senza cappella fosica ma che bastardone 3 sta scendendo qua no, si è fermato si è fermato il 3 voi sta riscendendo fammi vedere 3 2 chi è che scende oggi ci caccia non cazzo già ti sta ripigliando pure a te no guarda sta parlando il telefono ciao a notte mangiare molto a me sta vedendo sta vedendo ecco l'andrea come eccolo? mi è venuto? no che bastardo sta parlando il telefono vai a romper il scatolo con te ma fai mi avvicinino chi ce l'ha? 2 2 2 è andato sotto 2 ecco 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 la televisione? ti ha visto la registrazione? ti ha visto la televisione? e girati però! faccio una rosata stai in via la voce? si, ti ha registrato e Francia, vado a dire! faccio gioco lei, salta dai Federico, vai immagini che esce forza Pado piano però Federico, lui rompe tutto lui rompe tutto raffiorello 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 se mi metto lì così, li prendo un corto ma è che lo sta ripiando a culo? mi sparano metti io la telecamera lì si, così veloce mi sta venendo una sete non russa troppo se si alzi ci mi hanno messo si, ma pensa che cazzo di... come si possa qui faccio la risata mi do io passiamo di poi faccio la ripresa la ripresa la ripresa è un mito ma allora ce l'ho è un mito la leve 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 non è Claudio è Claudio la sorella ma non è Cosa mi puoi legare la tua pella? oh mi puoi legare la tua pella? aspetta 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 prendi questa prendi questa la leve la leve leve la la si la la non 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 Dove mi si cascano? Dove mi si cascano? Chi è la penna? Che è? È di dottore questa! È di dottore! Non me la vengo! Andre dai! Fai conto che abbiamo visto? Ce l'hai io? Metti, metti! Non viene? C'è un po'... Come te l'ha fatta a te? Ci vediamo lì fra 5 minuti! C'è un po'... C'è un po'... Non lo so... Andrezzo! Vai metti lì, vieni! C'è un po'... Ah, insieme a te! Sì, sì, sì! Entro! Eh... Sì, no! C'è che ti prendi, oh! Bello! Che duri? Faccia lei! Aspetta, basta, ho fatto! Fai! Cento! Cento! Un po'... La crisi da telecamera! È un mito! È un mito! Provisaci la canzone! No! No! Prima la cucchiaire! C'è due, oh cazzo! Sarà caso di andare, perché... Oh, se vedi il fiorello fa lo uccelli! Fa lo uccelli! Fiorello! Non lo so! Sì, dovrebbe... Romano, Amadeus! Andiamo male, piccoli tacchieri delle foto! Ah, ok! Va bene lei! Che l'hai fatto? Ah! Cazzo! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Ciao! 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 Ma c'è una ripresa! E' il secondo! Andrei, vai, vai! Andrei, vai! Andrei, segui! Ci segui, l'accazzo, un reporter personale! Ciao! Ci vediamo dopo! Ah, Max! Max! Questa! Hai preso le foto? Eh? Un prezzo del fatto? Ehi, bello! Dov'eri? Paterino! Ah! 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 Andrei! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ciao! Alessandro! Alessandro! Lunedì sera! Martedì! Chi si ricorda? Diggielo però! Nome, Alessandro! Beppo! Alessandro! Visto che era! Visto che non era nessuno! Mi ammazzo qua! Dov'è? Guidalù, Guidalù! Qua ti sapete, no? Sicuro che è, no? Madonna! Non volete il giubbetto? Con solo il giubbetto non c'è 3 milioni! Vedi! Andra, dai! Ma hai la macchina giù c'è? Vedi, vedi! 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 Vedi, vedi! 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 Buongiorno a tutti. 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 Ci va? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Silencio. Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.